Ciao a tutti, oggi parliamo di una speciale biblioteca, non come luogo di raccolta di libri, di cultura, ma come luogo di umanità, di incontri, di esseri umani. È una biblioteca situata su un confine, quello tra gli Stati Uniti e il Canada. Allora, quello di essere sul confine non è una situazione così rara, la ritroviamo nel cinema, pensiamo al film La legge è legge con Totò e Fernandez del 58, la vicenda ambientata in un paesino alpino, metà in Francia e metà in Italia, ma anche nella realtà ci sono fatti analoghi. Pensiamo a San Pellegrino in Alpe, un paesino sul passo monimo, sull'apennino tosco-emiliano. In questo paesino c'è una chiesetta che costituisce la salva di San Pellegrino. La chiesetta è per metà in provincia di Lucca, quindi Toscana, e per metà in provincia di Modena, quindi Emilia-Romagna. Ed eccola la Haskell Free Library e Opera House, metà in Canada e metà negli Stati Uniti. Costruita ai primi del Novecento, il teatro fu inaugurato nel 1904 e la biblioteca nel 1905 per sancire la fratellanza tra il Canada e gli Stati Uniti. Ha 20.000 libri e è aperta 38 ore alla settimana, ma più che per prendere i libri, ha 5.000 abbonati. La biblioteca, anche per il travel ban di Donald Trump, è diventata un punto d'incontro tra persone che non possono uscire dagli Stati Uniti e persone che non possono entrarne, e quindi le famiglie divise si ritrovano qui, in questa biblioteca, per riabbracciarsi. La cultura veramente è amica dell'umanità.